Salve a tutti i Mass Effect fans, benvenuti al nuovo episodio di Mass Effect. Lasciandoci alle spalle quella brutta e orribile esperienza avuta con la Loyal di Zaid, che poi non si è neanche conclusa nel migliore dei modi, nel migliogliore dei modi, il solo pensiero mi fa balbettare. Comunque sia, una nota positiva, forse l'unica nota positiva, è che abbiamo sbloccato una nuova arma pesante, ovvero il lanciamissili ML, M622 Avalance e quell'altro ML22, insomma dopo le vediamo. Allora, non siamo ancora al punto in cui Mordin ha preparato le difese contro gli sciami cercatori. Quindi, considerando che abbiamo fatto soltanto la DLC, che poi la riprenderemo più avanti quando tireremo su nel nostro equipaggio Tali, e vedremo a lei che cosa ha da dire in questione, l'altra missione era stata quella di Zaid, della Loyal, e entrambe le missioni non contano per progredire nella trama. Quindi, dobbiamo fare una missione per progredire nella trama. Nel frattempo, giocando così offline, non sono andato avanti, ho semplicemente tirato su un po' di materiali, un po' di... ho fatto un po' di sondaggi dei pianeti, ricavando un bel po' di risorse. E tramite quello ho potenziato un po' il mio arsenale, e anche, insomma, i vari bonus della corazza nel laboratorio di Mordin. Io direi, per questa missione, di fare qualcosa di un po' più divertente, andare a reclutare il Krogan. Così, almeno, avremo un bel peso massimo, sperando che in modalità folle le sue abilità siano utili. Ah, reclutare il Krogan. La mia vena esplorativa stava andando già sul pianeta per sondare, per lanciare le sonde. Andiamo su Corlus. Tra l'altro, ragazzi, ci tengo a sottolineare una cosa. Mass Effect, come ho già detto in diverse occasioni, è un gioco veramente stra-gigante, enorme. E quello che viene detto, quello che si vede nel gioco, non spiega, ovviamente, tutto quello che sta dietro in questo universo. Veramente giganterrimo. E come ben sapete, io ho letto sia i libri che i fumetti, i cui, piano piano, con calma, quando ci saranno i giusti momenti, quando i tempi saranno propizi, farò le dovute recensioni. Però c'è anche una parte molto importante, un po' più nascosta e molto più sottovalutata dagli utenti, ovvero il Codex. Voglio parlare un attimo di questo argomento, prendendo anche ispirazione da un video che ho visto giusto di recente di un altro fan di Mass Effect, che giustamente ha fatto notare che tra i canali su YouTube Italia che trattano Mass Effect, quasi nessuno tratta il Codex. Il Codex sono una lunga serie di... di file... Sì, tazzito. Di file che ti spiegano praticamente tutto, le specie del consiglio, come si è formato il consiglio, le Asari, i Turian, com'è costituita l'alleanza, che cos'è la guerra del primo contatto, e molti sono proprio dei registri dettagliati con la data, e sono anche molto molto lunghi, per questo non mi sono messo lì a... a farveli vedere uno per uno, eccetera. Per questo cercavo di omologare l'azione alla spiegazione, quindi quando c'è un qualcosa di interessante vi do una spiegazione, però a metà perché più avanti si riprenderà quello stesso argomento. Quindi cercare di dare spiegazioni senza mettere troppa carne al fuoco. Scusate se parto così col blablaggio perché il Codex è una parte molto importante e colgo quindi l'occasione, scrivetemelo nei commenti, se volete dei video che li farò separatamente dai walkthrough, dei video approfondimento per spiegarvi le cose che appunto da approfondire nel gioco. Tipo, volete sapere di più sui Turian? Scrivete nei commenti l'hashtag voglio il Codex su e poi mi dite l'argomento. Lo volete sui Turian, sui Quarian, su Cerberus, insomma. E io farò un video approfondimento a parte. Detto questo, cominciamo con la missione di oggi che è reclutare il Krogan. Ah, sorpresa delle sorprese, abbiamo invece avuto lo stesso la Loyal perché avendo la Loyal viene questo alone arancione sotto il personaggio e li posso cambiare l'aspetto. Vedi, bellino, da giallo diventa rosso ma tanto te non ti prenderò mai più. Allora, prendiamo Miranda stavolta e ci prendiamo... No, Garus l'ho già preso nella missione scorsa. Il Dottore... Il Dottore no mi torna, granché. Vai, torniamo con la scuola originale perché lui ha la spinta biotica ed è piuttosto utile per spingere via gli avversari mentre lei gli toglie gli scudi. Garus, come ho detto, l'abbiamo usato nella missione scorsa quindi... No, aspetta. Idea, andiamoci con Garus dato che comunque c'è un bel po' di casino tra Krogan e Turian. Ah, giusto. Scegli l'arma pesante Dovremmo averne due Allora, questa l'ho preso nella Loyal di Zaid che fa schifo come arma almeno a me mi fa schifo Lancia missili Eccolo qua E lancia granate M100 Ok Io direi di provare prima l'M622 Avalance e poi nella prossima missione il lancia missili Vabbè, lancia missili comunque si può intuire che cosa fa mentre questo invece mi incuriosisce Accetta Perché non mi ricordo molto bene i funzionamenti di tutte le armi pesanti perché una volta sbloccato il raggio dei collettori io sono andato sempre avanti con quello Non sappiamo se Okir si trova su questo pianeta per scelta Aspettati dei nemici Una trasmissione attraverso gli altoparlanti Affascinante Non lasciarti distrarre Cerchiamo un signore della guerra Krogan Okir un nome molto odiato dai Krogan perché possiamo definirlo come l'unico probabilmente l'unico scienziato Krogan anche se vabbè non ha non ha questo termine riconosciuto però è un Krogan che si diletta che si diletta con le operazioni dal laboratorio vediamo un po' se posso svettare qualche punto ok al momento niente anche questa missione sarà abbastanza spara spara e in certi punti sarà anche complessa perché siamo comunque in uno dei pianeti dei Krogan si vabbè messaggi di propaganda che poi spiegheremo tutto no non ti mettere davanti non cominciamo già eh allora cominciamo subito a fare le cose per bene sì magari anch'io se però gli metto vai deformamelo esatto no l'ho preso sul trapezio sinistro allora tac esatto là olè dicevo siamo su uno dei pianeti dei Krogan quindi non è diciamo esattamente governato da pace e amore mercenario ferito non dovresti alzarti tecnicamente non c'è bisogno non c'è bisogno che lo sappia sapevo che non erano berserker non da lontano siete mercenari o dell'aleanza dov'è il signore della guerra non sei nella posizione migliore per trattare sto cercando un Krogan di nome Okir chi sai già più cose di me io i Krogan li uccido e basta il vecchio nel laboratorio ne scarica qui in continuazione Jedor l'ha assunto perché le realizzasse un esercito ma i Krogan che crea sono folli quindi noi li usiamo come bersagli viventi stronzate non mi pagano abbastanza per morire di sanguato Rispondi in modo errato la risposta da Renegade Hai sentito l'uomo alla radio ha bisogno di indicazioni io non ho le informazioni che gli servono sei arrivato prima che riuscissi ad eseguire i soliti rilevamenti hai altri problemi pattuglia avvistamento di gruppo a est della stazione 2 affermativo ricevuto a est della 2 bastardo andranno alla cieca contro i Krogan comincia a correre allora se inizi a muoverti potresti trovare un posticcino tranquillo prima di morire di sanguato merda lo spavento è stato un tocco di classe immaginavo andiamo il nostro signore della guerra è da qualche parte nel laboratorio di Jedor perché ho preso 5 punti eroe non li voglio punti eroe uffa stortiscilo vai questo l'ha sentito e questo pure metti fuori la testina ah no è morto ok allora sarebbe grave se mettessi fuori la testina allora adesso devo fare attenzione perché spuntano da questo ponte vediamo un po' dov'è che mi posso nascondere c'è un riparo sì ok preso l'ha preso sì l'ha preso ok ecco no non lo prenderò mai così togliti da lassù bravo a lunga distanza è spreciso come non lo so come allora togli gli scudi vai no no ok no mercoledì giovedì e venerdì e sabato era un bersaglio gratuito è tutto ricarica maledizione e dai senti tacca oh mi servono delle ammunition ammunition no 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 ammunition a me sale uno in meno di cui preoccuparsi bello grazie ora il problema è che essendo così lontano non lo becco cioè non me lo punta neanche con i poteri degli alleati quindi devo avvicinarmi vabbè tanto è uno quindi dovrei farcela senza problem scudate scudatelo roger apri mamma mia qui su tushank eh sì tushank abona su questi pianeti comi vengono in mente un sacco di cose da dire sui crogan però finirei effettivamente per fare un video molto blablaggioso quindi per questo all'inizio del video vi ho detto se volete dei video da approfondimento li faccio a parte perché se no qui veramente starei a parlare senza giocare e a voi vi samorberebbero le palle letteralmente allora no vabbè a terra cosa guardo vediamo un po' quest'arma nuova cosa fa no aspetta non l'ho capita ma non fa niente non neanche lo congela cioè lo spruzz ah sì li congela ok ok come l'ho detto scusassero eh la cosa brutta però è che è balistico nel senso che segue la fisica vedi allora forse ho capito forse prima li congela e poi li rompo sì esatto allora è facile dai no vestio non spammare i razzi nabbo no guarda guarda quel nabbo lassù guarda quel nabbo che fa il camper con lanciarazzi nabbo guarda glielo scrivo in chat nabbo ok siamo a buon punto più o meno già ma non ce l'hanno con me no allora prima che lui si chini ok allora Garrus fai una bella cosa te cecchina e vai lì bravissimo esatto c'è qualche altro potere posso usare al momento 9 boom allora usalo vieni metti fuori la testina bravo ti devo fare attenzione perché un colpo un colpo e son morto no adesso no ok dai ok morto e io qua la prima la primissima volta che ho giocato a Mass Effect 2 ho scambiato quel krogan lì di spalle per Vrex ero già contento e poi quando ho visto che non era lui ci sono rimasto malissimo le delusioni della Bioware cattivi avete giocato con le emozioni di un povero fanciullo un krogan morto qua praticamente sono krogan artificiale perché come dicevo prima questo krogan che stiamo cercando come ho detto si diletta nel giocare con i geni nel creare krogan artificiali e questo si ricollega in parte a ciò che fece Saren nell'impianto di clonazione del primo Mass Effect anche se per motivi completamente diversi corra in copertura brava tu sei diverso nuovo non hai l'odore di questo mondo sette cicli notturni e ho provato solo il bisogno di uccidere ma tu qualcosa mi spinge a parlarti ha solo una settimana eh sì comunque sia penso che questa frase qualcosa mi spinge a parlarti è perché uno i ricordi vabbè come vedremo sono stati impiantati quindi tutti i ricordi di Okir una cosa generale insomma i ricordi le esperienze di vari krogan soprattutto grandi guerrieri vengono impiantati nei krogan artificiali per sopprimere tutte le altre qualità far praticamente far rimanere far prevalere per meglio dire soltanto la violenza l'istinto di uccidere come ha detto però sei vicino a Shepard dicendo qualcosa mi spinge a parlarti perché noi abbiamo avuto un krogan in squadra e da quello che ho letto una volta e poi devo devo rivederla un attimo un paio di cosette prima di procedere magari ve lo dirò in un altro video però mi pare di aver letto che i krogan hanno un olfat molto sviluppato e quindi anche se passare un po' di tempo Shepard ha ancora addosso l'odore di Vrex poi non so se era una ship abbastanza brutta come ship adulti nati in laboratorio abbastanza da sapere qualcosa devono crescerli fino all'età adulta quando sono pronti a uccidere se avessero bisogno di addestramento non sarebbero tanto meglio dei soliti mercenari eh creati per uccidere no io uccido perché il mio sangue mi dice di farlo ma non è per questo che sono stato rifiutato dalla madre di vetro nella mia testa sento parlare di sopravvivenza contro il nemico che minaccia tutta la mia specie ma ho fallito ancora prima di svegliarmi è ciò che ha detto la voce nell'acqua ecco perché attendo qui mi fa un po' tenerezza perché ho fallito ancora prima di svegliarmi sì se tu fossi adulto anche a livello celebrale questa cosa non l'accetteresti proveresti comunque ad adempire il tuo dovere allora soltanto dopo puoi dire di aver fallito però è un cucciolo ha una settimana è un adulto ma mentalmente è un cucciolo ancora 7 giorni di vita Jedor la voce è il nemico la voce di Okir ti ha parlato mentre eri nella vasca ho sentito la voce non come ora con le orecchie dentro di me la chiamavo padre mi piaceva ma essere rimasta delusa io non sono ciò che volevo che fossi un laboratorio pieno di krogan sembrerebbe un tentativo di curare la genofagia cura non si è mai parlato di una cura sopravvivere resistere ignorare dice ma hai fallito come fa uno che non si è ancora svegliato a fallire semplicemente perché l'esperimento che stava attuando in quel momento Okir non è andato a buon fine per questo preso buttato via come un sacco di patate in che modo hai deluso la voce non lo so è stato deciso prima che lasciassi la vasca madre non ero perfetto non ero perfetto forse incline alla follia di cui parlava quel mercenario non so nulla al riguardo ma non sono perfetto puoi mostrarmi dove è il laboratorio devo parlare con come un sacco di potere la madre di vetro si trova di sopra oltre i rottami dietro molte creature tenere come voi ve la mostrerò Christian eh infatti lo so per dire vieni con noi puoi mostrarci la strada aiutarci a raggiungere il laboratorio no un krogan che si rifiuta di combattere combatterò se verranno ma dentro di me sento di dover attendere ucciderò ma soltanto qui io non sono perfetto ma ho uno scopo devo attendere di essere chiamato di essere liberato c'è molta confusione nella sua testa ma dove vuoi andare dove vuoi andare comunque diceva Garrus meno male che è amichevole infatti i krogan amichevoli mi hanno sempre suscitato simpatia come quei due che discutono del pesce sulla cittadella no no eh sì che è successo al tabato al tabato da sé ci li siamo oh come un un deja vu eh meno male non mi fa ricominciare dall'inizio delle non mi piace per niente stiamo all'epa allora facciamo una bella cosetta siccome questi che ti arrivano sparati addosso e io non ho ripari allora vi sparo addosso il congela palle rompeteli perché io non posso farlo ecco meglio giocarsela così perché ok questa parte sarà abbastanza complessa perché è piena di krogan no allora deformazione esatto usiamo procedo piano ok non mi posso neanche nascondere troppo dietro questi ripari perché si rompono e questo mi ricorda una delle novità che doveva essere in Andromeda oddio per la prima volta i ripari si rompono no bestioso va bene no 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 scherzavo 1 2 3 stella ok oddio eccolo qua no il krogan colpiciamo Enrique bello che se la prende solo con me bello così l'ha sdraiato ecco allora ce l'era una a sinistra sento le voci cioè non in quel senso no 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 a lui ok ce ne dovrebbe essere ancora uno da questa parte no sento gli spari goddio che l'ho mancata allora deforma sdraiato sdraiato esatto di sotto ale ok ce ne manca uno no preso pienissimo se non altro questa parte non è stata così complicata come me la ricordavo il che è un bene lo vede lo vede ora sdraiato di sotto e vai allora scudo sdraiato 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 ok dovrebbe essere tutti no ne manca ancora uno e basta preso però colpo di ritorno comunque questi artificiali con una settimana di vita sono meno minacciosi degli altri ancora però sono tanti sono fastidiosi più che altro per la quantità no questa volta non mi prendi fuoco di ritorno ma dove da dove escono dalle pareti che urlo ha fatto non ho mai sentito non ho mai sentito un crogan urlare andando un'ottava sopra allora qualcun altro no ok posso fare un save estate sì di qua non si passa ok in questo particolare frangente ho trovato molto utile la pistola la carniflex i crogan hanno disattivato la rete siamo c'è chi è sott'attacco da ogni lato dove sono le armi pesanti c con sci cintura con cintura esce che c'è qui sotto niente vapore qua sotto non ci sono più dicevo qua sotto probabilmente c'è un ristorante cinese giusto mi sono appena ricordato una cosa nel primo mass effect io nell'impianto di clonazione di saren ho ucciso una certa rana tanop tanopolis tanoptis insomma un asari che diceva di essere lì soltanto per fare delle ricerche ma non voleva causare danni eccetera eccetera se noi la lasciamo vivere la ritroviamo qua la ritroviamo qua a condurre esperimenti e se ad essere di nuovo all'interno di un impianto di clonazione crogan a giocare con i geni a fianco non ho squilibrato posso aiutarti però questo ascensore dietro di me conduce al laboratorio privato di saren posso farti entrare visto accesso totale tutti i file personali di saren allora posso andare in Mass Effect 2 abbiamo la possibilità di liberarla di nuovo o ammazzarla sul posto nel caso in cui la liberiamo in Mass Effect 3 non mi ricordo dove scusatemi però possiamo recuperare un datapad in cui leggiamo che questa rana tanoptis ha continuato i suoi esperimenti e su esperimenti come dicevo molto invasivi anche insomma molto crudeli su specie innocenti e leggendo questo questo file noi ci pentiremo di non averla uccisa al primo incontro quindi va a fare hai condotto brutali esperimenti su cavi e incapaci di difendersi hai aiutato saren non ti lascerò in vita ho soltanto eseguito degli ordini non avevo scelta mi dispiace sembra quasi convincente ma vi posso assicurare che è una sadica comunque dopo se ho la possibilità sostituisco l'arma pesante perché bestia perché affronteremo un mech e non credo che il ghiaccio contro un mech serva a qualcosa allora qualcun altro qualcuno che mi vuole contestare sì da questa parte giusto? esatto vai allora deforma ma porco giuda peschia mostro l'ho preso sotto cioè l'ho sparato sotto l'ascella dio di chi che fa? eh no ho già finito i colpi del cecchino no eh oh ma ricarichi o no? eh no no stai giù ok metti fuori la testina ma se spamma i razzi non posso fare non posso fare granché ci sono altre munizioni in giro? eh ma Vrex ma te hai ma Vrex tu hai il bug per le munizioni sì è vero però non lo voglio usare se no mica è troppo facile direi che una spruzzatina di estate mancatissimo è difficile usarlo cioè ah ok non l'ho preso gli ho fatto anche male sì rompilo wow no 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 violalo dopo ah no sentivo lei sparare pensavo di essere dei nemici no ho fatto Ash quindi non lo posso più violare perché ho sentito te sparare a caso e ho pensato ad avere dei nemici dietro se mi fermavo a violare con i nemici dietro morivo mi è fregato bestia lo so che sei lo so che sei te Garrus basta dormire allora ragazzi io ve lo vi ve lo anticipo una volta arrivati da Okir dopo che ci avremo parlato interromperò questa parte di episodio la dividerò come al solito in due parti perché altrimenti si fa troppo lungo sto cercando non sempre ci riesco ma sto cercando di mantenere i video sulla mezz'ora e per non andare oltre infatti se ci fate caso in questi ultimi video ci sono più tagli rispetto ai video precedenti e infatti ho smesso di dire che sono integrali proprio perché ho aumentato quei tagli perché sennò veramente diventa diventano video secolari nel senso che durano secoli tac dai ultimo colpetto non in quel senso come siete maliziosi allora sì sì meno male che l'ho portato uh la 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 no 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 scherzavo vai rompetelo non po' non zebo però io posso forse no aspetta se no schianto non ebete sì ma non gli fa niente quindi allora rompeteli guarda da vrex che si dice rompiteli non rompeteli non rompete io sì invece bestia gli ho bruciato i capelli non so se avete visto che era pelato ok 2000 criti ci siamo eh ragazzi stiamo procedendo a grandi falcate senza schiantare ripetizione no miranda deciditi garrus anche tu stordiscilo e dai morto sembrerebbe di sì sì è è ho capito ti è buono c'è una salva di missi un lanciamissili infinito cioè senza il tempo di ricarica ho praticamente scoperto che questo qua il cannone di ghiaccio non c'è bisogno di caricare il colpo come pensavo posso sparare a ripetizione tac tac beh allora cioè è un'arma super OP questa no allora tac tac cadi e rompiti sbagliato se ma mi dai l'arma l'altra arma che ho sbagliato perché in tutti i giochi se premi uno ti torna all'arma all'armamentario tutti negli fps intendo dire ok allora questi non li prenderò mai quelli ai lati quindi devo colpire questi qua vieni l'ho preso ma manco per il cazzo ora l'ho preso ed è anche morto bene dai l'ho preso anche con la fumacchia davanti oh schiantas bravo ok dovrebbero essere tutti in teoria ok ricarichiamo le ammunitions celle energetiche 7 armi pesanti va bene 4.000 crediti ok siamo a buon punto dai qui c'è la gente che muore perché gli ho mandato l'ho mandati da tutt'altra parte rispetto a dove dovevano andare allora dammi il verde dammi il verde dammi il verde qua esci ok 4.000 crediti sale vai 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 ok no 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 nina la bla 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 vai un altro colpetto altro colpetto un altro colpetto oh donna non è mai soddisfatta lì a forza dei colpetti no ma perché lì su al muro a lui oh dio uuuu oh allora vediamo un po' se sì ok ho di nuovo il cecchino pieno no sento gli sparamenti no no bestia 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 uuu va bene qui posso allamerare ah no è morto vabbè bestia mostro suino la combinazione perfetta oh sale progressi oh dov'è oh kira eccolo qua godiamoci questo filmato e poi ragazzi ci salutiamo perché ho visto 57 minuti ovviamente lo taglierò parecchio però e potevi anche darci una mano stronzo ormai è ora le batterie di queste vasche non aspetteranno i tuoi comodi con quei mercenari idioti cambia tono tanto per cambiare cioè tanto per cominciare non è il modo più furbo per accogliere il gruppo corazzato che ti ha appena sfondato la porta sono sicuro che chiunque ti abbia mandato non mi vuole morto nessuno mi cerca senza un motivo di certo non lo shepard è deceduto sorpreso tutti i crogan dovrebbero conoscerti o hai già dimenticato le tue azioni e qui si ritorna appunto all'impianto di cronazione del primo mass effect e scommetto che tu sicuramente sarai ansioso di raccontare di nuovo la storia e che storia saren traditore degli spettri minaccia di ripristinare lorda crogan curando la genofagia annullando il dolce genocidio progettato dai turian e dai salarian ma prima che saren possa liberare le sue sconfinate truppe ecco che arriva shepard che ci assicura la vittoria grazie al fuoco nucleare mi piace quella parte a spessore ho fatto il necessario non ho motivo di scusarmi era la soluzione migliore ma io approvo le pallide ordini saren non erano veri i numeri da soli non contano l'errore di uno straniero lo stesso commesso dai mercenari ho dato al loro capo i miei scarti per il suo esercito ma sta diventando impaziente è tempo che tu mi porti fuori di qui siamo qui per i collettori i tuoi problemi non ci interessano minimamente capisco si gli attacchi dei collettori si sono intensificati un problema degli umani le mie richieste erano focalizzate altrove ho acquisito la conoscenza necessaria a creare un soldato puro con essa infliggerò alla genofagia il peggiore insulto che si possa rivolgere a un nemico venire ignorato ti unirai a noi i tuoi metodi sono estremi ma sai come sventare una minaccia ci aiuterai forse possiamo accordarci per un trasporto sicuro ma il mio prototipo non è negoziabile è la chiave per ogni eredità attenzione ho rilevato il rilascio dei croutan opera di okir naturalmente voglio che sia fatta tabula rasa sul suo progetto elimineremo questi comandi ripartiremo dai dati di okir svuotate le vasche è davvero così smidollata ucciderà la mia eredità girando una dannata valvola shepard cerchi informazioni sui collettori fermala proverà ad accedere alle sostanze contaminanti a quanto vabbè perché ti preoccupi potresti ricominciare da capo come intende fare lei qual è il problema questa vasca è pura ha richiesto tanti esperimenti quantitati iniziare da capo non la duplicherà deve sopravvivere Jedor sarà alle vasche scartate uccidila io resterò qui a fare ciò che deve essere fatto e con questa frase criptica noi ci fermiamo qua e ci becchiamo al prossimo episodio in cui andremo effettivamente a fare il tambao alla bionda laggiù dopodiché tireremo su nel nostro equipaggio Grant ci parleremo e se dio vole finalmente il dottore avrà creato le difese per per gli sciami cercatori tutto questo lo vedremo nel prossimo episodio quindi ci becchiamo alla prossima grazie a tutti